Buongiorno a tutti, io mi chiamo Gabriele Bornelli e sono un ingegnere elettronico nella vita sviluppo elettronica e quello che vi presento oggi è un brevetto per la domotica wireless e low cost. L'ho chiamato comodo, sperando che vi piaccia il nome insomma. Allora, un secondo solo, possiamo andare avanti? Ok, allora vi salto l'introduzione che vi spiego io. L'idea è nata con l'obiettivo di rendere la domotica più accessibile, più facilmente implementabile all'interno di una generica abitazione che non sia stata predisposta per essa. Ho fatto un giro nei vari centri commerciali ed ho esplorato i vari prodotti che esistono in giro e mi sono accorto che chi vuole implementare domotica oggi deve affrontare tante spese. Intanto per rendere la propria casa, diciamo, cablata per la domotica e quindi per comprare un server bisogna installare una rete, diciamo, una rete wireless oppure bisogna acquistare un'infrastruttura che rende possibile l'implementazione della domotica. E poi ci sono i vari device che si possono mettere al posto dei punti luce e che consentono di utilizzare i vari sensori e attuatori dove si vuole. L'idea che sto presentando dovrebbe consentire di abbattere una serie di questi costi, diciamo. Nel senso che immaginate di non dover... Allora, l'idea è quella di poter utilizzare la domotica in una casa nella quale non serva, diciamo, ristrutturare l'interno. Queste sono delle normalissime prese di corrente, una presa vecchia, diciamo, sia interruttore che presa. Comodo è un sistema che si inserisce all'interno della presa con delle operazioni molto semplici, veloce e molto semplici, che sono lo svitare la mascherina, la sottoplaca di inserimento, sganciare i fili che sono attaccati normalmente ai frutti, inserire all'interno del poco spazio disponibile il piccolo dispositivo, riagganciare tutto ai frutti che c'erano prima e richiudere la mascherina. Quest'operazione ha richiesto 10 minuti e non avete dovuto fare nient'altro. Il sistema, il riassunto, diciamo, in modo molto schematico è questo. La scatola, diciamo, la presa standard è smontata con quel rettangolino rosso che rappresenta appunto il sistema comodo. Il sistema comodo ha un vantaggio notevole rispetto a tutti gli altri sistemi. È un sistema wireless ed è compatibile con tutti i protocolli, la maggior parte dei protocolli wireless, perché è stato implementato con le tecnologie aperte che ci sono oggi. Quindi con Arduino, con i sistemi ZigBee, che possono parlare con il protocollo ZigBee, il protocollo Bluetooth, il protocollo Wi-Fi, è a scelta dell'utente. L'idea è quella di realizzare una serie di moduli che possono essere scambiati fra di loro. Ci sono dei device che si possono sganciare e agganciare molto facilmente e che consentono di rendere la centralina Wi-Fi con il protocollo che desiderate voi. Questo consentirà di far parlare, diciamo, domotico o con una rete wireless ZigBee cablata già dentro casa o con il tablet che avete o con uno smartphone in Bluetooth, quindi punto punto, o in qualsiasi altro modo. E quindi è una cosa che si può mettere, diciamo, dove volete voi, o solo in un ambiente o in tutti i punti di luce. Si può scegliere esattamente il posto in cui viene implementata e il protocollo con cui comunica con il device elettronico che la piloterà. Questa è un'idea un po' più completa, quindi il rettangolino rosso che c'è dietro è sempre la centralina wireless e questi moduletti sono, diciamo, dei moduli che fanno da sensore, perché Comodo non è solo la centralina wireless. Comodo è un kit completo di dispositivi che ho brevettato che si possono interfacciare con la centralina. Quindi se voi avete bisogno di il sensore di gas oppure soltanto il sensore di presenza, il sensore di posizione, il sensore a raggi infrarossi, scegliete voi quello che volete aggiungere all'interno della scatolina, lo acquistate come moduletto e l'aggancio del singolo sensore è lo stesso dei frutti, quindi non bisogna andare a trovare cose strane. La sottoplacca rimane la stessa e bisogna avere soltanto tanti posti disponibili, quanti sono, diciamo, le prese non usate. In questo esempio c'è una sola presa di corrente, due placche di copertura e i due sensori vanno esattamente nelle due placche di copertura, si agganciano con lo stesso aggancio e quindi abbiamo ottenuto una presa wireless che contiene all'interno un sensore di corrente e un sensore di rumore. Questo è un elenco dei possibili moduli che ho previsto per Comodo, nel senso tutte le possibilità di switch, di sensori, di attuatori che si possono inserire. Chiaramente sono stati presi in considerazione tutte le possibilità di potenza e corrente per risolvere i vari problemi che possono essere sia in un'abitazione che in un'industria. È differente se voglio pilotare una luce, una lavatrice o un server. E quindi è stato pensato di realizzare dei moduletti, diciamo, dei moduletti aggiuntivi che possono avere un carico sopportato che sia di un tot di ampere che dipende da quello che volete voi, insomma. 1 ampere, 5 ampere, 10 ampere, tanto all'interno c'è un relais, chiaramente, che è grande quanto il frutto e quelli che esistono oggi in commercio sono più che adatti a sopportare questi tipi di carico. Ok, questo è un esempio di, diciamo, modularità del sistema. Vogliamo portare il sistema all'estremo, quindi capire quanto si può espandere, quanto può essere utilizzato in un ambiente dove ci sono tanti attuatori e tante prese. Qui abbiamo un esempio di tre sensori, tre ricetrasmettitori, i tre rettangolini rossi. Ho fatto un esempio, diciamo, particolare dove si volesse utilizzare contemporaneamente il protocollo Bluetooth, il protocollo ZigBee, il protocollo wireless e in più avere n sensori attaccati a tutta questa megacentralina che c'è dietro. E quindi diventerebbe così il sistema. Questo è comodo. Inoltre, visto che oggi ormai si sono diffusi sul mercato gli smartwatch, e quello che ho al polso è un esempio, è uno smartwatch che è stato finanziato tramite Kickstarter sempre, si chiama Peeble, e ho fatto delle prove, diciamo, di interfacciamento dello smartwatch con questo sistema. E ho pensato alle possibilità che nascono da questo connubio, che sono notevoli, nel senso che se immaginate a tutto quello che si può implementare dentro una casa, avendo un sensore, diciamo, di posizione, un accelerometro, e nello stesso tempo un display che vi può mostrare informazioni su quello che succede dentro casa, sui guasti, vi può dare indicazioni su come risolvere un problema sapendo esattamente dove andarlo a individuare fisicamente, oppure può essere usato come un sensore di posizione per una persona anziana che sta a casa e quindi viene intercettato, come qualcuno ha detto anche precedentemente, insomma, il discorso dei sensori in questo caso verrebbe collegato automaticamente a Comodo, che è la rete che abbiamo già dentro casa e che già parla normalmente con gli smartphone, in più parlerebbe anche con il vostro smartwatch. Ok, queste sono quindi le caratteristiche riassunte del sistema. Mi sembra di aver detto tutto. Il sistema è open, quindi un'altra grande caratteristica innovativa di questo sistema è che si basa su Arduino, quindi il codice è assolutamente aperto, si può sviluppare, si può condividere, si può migliorare. Questo significa che oltre alle normali funzionalità che avete con i dispositivi che ci sono sul mercato, potete modificare tutto quello che volete, potete farlo funzionare come volete voi, sviluppare una logica che desiderate e addirittura si può interfacciare con un sistema di rete di intelligenza artificiale, rete neurale artificiale e quindi volendo, facendo un discorso molto futuristico, la rete wireless che avete dentro casa potrebbe apprendere dalle vostre abitudini, quindi potreste arrivare al punto in cui, data una configurazione di base che è quella che fa funzionare il sistema in un certo modo, nel tempo, se voi non volete più delle funzioni o volete che il sistema non debba essere riprogrammato e ne volte, perché chiaramente fa cose che non sono più le stesse che volevate all'inizio, il sistema potrebbe apprendere, grazie al fatto che i feedback che arrivano dai vari sensori riconoscono nel tempo le vostre abitudini e quindi vi propongono delle configurazioni migliori in base a come vi comportate dentro casa. Quindi questa è una possibilità legata chiaramente a tutto il mondo delle applicazioni. Queste sono alcune immagini. Il sistema al momento è in fase prototipale, esiste una demo e comodo è la prima schermata chiaramente è un esempio di sviluppo. La seconda schermata è la schedina di base della centralina e a fianco ci sono due foto di come il sistema diventerebbe avendo comprato diciamo una normale scatola 503 dimostrando che entra perfettamente in una di quelle più piccole che esistono sul mercato e quindi la dimensione minima utilizzabile è da quella 503 in poi. Chiaramente per quanto riguarda il pannello di controllo le possibilità sono infinite esistono già varie applicazioni free che si possono usare per pilotare il sistema per configurare la mappa dei sensori dentro casa e anche per parlare con il device che avete scelto per pilotare diciamo i vari attuatori che ci sono. Ok qui c'era un video ma non funziona questa è un'altra possibilità diciamo di pannello di controllo quindi a sinistra c'è un esempio di casa con indicati i vari punti in cui è stato inserito comodo e a destra sono presenti esattamente l'elenco quando viene cliccato sul singolo punto della casa in cui è stato inserito comodo a destra si apre il pannello con in questo caso c'era un sensore di corrente che fa vedere la corrente che è stata erogata da quella presa o che viene erogata in tempo reale. Grazie per l'attenzione. grazie a tutti grazie a tutti